Bentornati su MyFootballGersey. Rivediamo questa maglia che abbiamo già visto in versione fan e in versione player, trovate qui in alto le recensioni. Questa ovviamente è la prima maglia della Juventus in edizione player, però a manica lunga. Grazie a tutti. Beh, su questa maglia l'abbiamo già vista, non c'è niente da aggiungere. A me piace, è una maglia bianca e nera, però questo motivo nella riga mi piace molto. Mi piace anche la maglia a maniche lunghe con la banda di Adidas che continua fino al pulso. Il costo lo vedete qui sopra, ecco, questo mi fa impattire. Se volete maggiori dettagli, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché potete trovare questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto, ma che ci aiuta a crescere e a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 Ciaozie a tutti! Grazie.